musica 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 eccoci qui in una nuova undevented map chiamata world of the fallen creata dai pixel si sempre lui è un mostro fa cose sempre più meravigliose e questo è un po' molto simile alla ehm hero brine solo che non è il continuo come lui ha cercato di specificare ma tutti evvive il continuo della hero brine non è il continuo della hero brine è solo ehm un'altra mappa non è il continuo della hero brine comunque ehm ha le stesse modalità della hero brine però migliorate ma vabbè comunque sa dal trailer che ho visualizzato dovrebbe essere fantastica quindi il tutorial qui già abbiamo visto tutti ehm gli elite boss hanno i tento conosciuti figli di una grandissima allora ehm il quest log ovviamente questo sarà diverso dato che questa è un'altra cosa allora vediamo un po' WTF minchia dieci faggine allora Capitan Heleron and you crew are falling together Iceland protect the ship and eliminate no any tears kill Capitan hook reset anti l'arrival ok ok perfetto dobbiamo uccidere Capitan hook things are looking strange on granor maybe my mayor will be able to explain visit the town hall listen to the mayor vabbè queste le vediamo a lungo l'andare perchè è brutto spoilerarci tutto quello che dovremmo fare oh 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 perchè sono nel vuoto oh Capitan Heleron say wake up we are being attacked by pirate ship there should be weapon and armor in the hull of the ship get it air up wake up oh my god they are attacking us ci stanno attaccando delle ossa va bene una spada e una tunica perfetto ah armi later capo va bene rotten flash può sempre essere utile una pozione uh bottle of un charting un arco anche perfetto allora mettiamo be quick aspettate better mc6 that's my speciality uh ah no ok jump in the water swim into the ship climb the lander keep the mall be quick before the ship is just destroyed by the cannons ok 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 prendiamo anche il pantalone e le scarpe perchè possono essere utili allora scarpe il pantalone è molto utile soprattutto il pantalone e eccoci qua allora vediamo se qui c'è qualcosa ok già ho preso tutto la spada pure la tengo altre 16 frecce possono essere utili uh cibo può essere utile uh vabbè un'altra spada la prendo per sicurezza uh questa potrebbe essere utile 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 uh vediamo un po' qui dentro no freccia torna da me freccia torna da me ok ok allora oh oh ah allora vai nell'acqua cioè aurnave mhm probabilmente se scendo troppo nell'acqua potrei cadere nel void oddio quante esplosioni ah esplosioni su esplosioni però io il temerario bear salverà questa roba aia idioti non colpite anche me sono dalla aspettate un attimo però devo oh no 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 avrei dovuto organizzarmi l'inventario prima di partire ma vabbè ma vabbè ma vabbè ma vabbè capitan hung say i will click the little sheep down the place they don't look like pirates infatti allora praticamente il comandante ha detto distruggerò la vostra piccola navucola in tanti piccoli pezzettini e io giustamente ho detto ma questi non sono pirati e vabbè è ovvio che non sono pirati poi capi il nostro capitano ha detto qualche altra cosa ma non ho fatto in tempo a leggere tu vedi di crepare allora vediamo un attimo indeed this seems like hard mercenaries by very careful of them infatti il mio capitano mi ha dato ragione ha detto è vero effettivamente non sembrano dei 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 pirati ma dei mercenari e vabbè allora no le ladder non si può salire porca miseria allora vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa prima di aia ho detto devo riuscire a trovare qualcosa non essere riuscito a farmi male ah 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 qui c'è qualcosa da allora boss fight capitan hack press button we're ready si aspetta un altro pochettino allora eeeh vediamo un po' se c'è qualcosa qui mmm non c'è in assoluto nulla molto interessante mi piace quando non c'è nulla allora no neanche lì c'è niente eeeh uuuu meloni e anguure aaaah pa 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 ta mi distra il volso ovunque ta 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 allora eeeh no qui non c'è niente da fare quindi dobbiamo andare ad uccidere il capitano il capitano dunque signor capitano io sono qui per aprirle eeeh in modo vorace Il vostro sedere Cosa ne dice di Farsi aprire il sedere In modo giusto Bodyguards Ah anche dei bodyguards Ah ok dicevo perché non si apre la cosa Oh 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 Ben Ben Oh la madonnina A quanto pare il nostro capitano È molto forte E non riesco a colpirli Non capisco perché loro si stanno ammazzando da soli E sono in Grazie Sono in ardo Quindi è per questo che mi ammazzano in due nanosecondi Però vabbè Capitan hook Che bella skin che ha però come testa Intanto uno zombie con un arco che non può utilizzare Oh è uno zombie Oh oh ah Lug Allora E cacchio crepa signor hook Mamma mia Ah ok è morta una bodyguard No l'abbiamo ammazzata Aspetta Fammi prima uccidere il tuo amico Ho detto fammi uccidere prima il tuo amico Però non lo colpisce Allora allora sparmiamo un po' di frecce Mori No Crepa tu Crepa Bene pozione Bene pozione No 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 Via 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 Allora questa come la Herobrine Mansion Dovrebbe essere fatta sempre a due giocatori Perché è un giocatore molto difficile Però Bear come al solito Essendo un grande temerario Ci proverà anche da solo Sono in Iasi La mod della mappa è in Iasi Però io sono in hard Oh No No Come potete vedere io sono in hard Anche se La modalità della mappa è Iasi Ehm Perché L'ha raccomandata Opp Però A differenza della Herobrine Mansion Dove ero in normal Quindi questi sono molto più forti E poi ho solo Una freccia in testa Interessante Tu vuoi crepare Vuoi crepare prima che Perda la pazienza Su Dai capitano Ah Ehm Spada di ferro Però non ha niente E mi ha dato anche questo coso qua Che come ben sapete serve molto Vedete ho anche una freccia sul piede Allora Use the disc from Capitan Huck Yeee L'ho sconfitto Are you guys ok? Yes I am We are coming back to the ship now Yes I am coming back to the ship I suppose Oh 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 Che è tutta questa roba? Oh una spada incantata Ehm Notus Madness La pazzia di Notu Ehm La pazzia di Notu Vediamo un po' Cosa fa questa pazzia Vanno affatto Di 9 e 4 da me Guardian set Uh Guardian set Come appunto nella Herobrine Ci sono diversi tipo di set E sono uno molto più cool Dell'altro E adesso Con un certo carpietto da Riginetta dei mari Uh Torniamo in acqua E viaggiamo verso la nostra barca Che a quanto pare è leggermente danneggiata Ma questa è proprio distrutta Ed è molto più figa della nostra Sì È molto più figa della nostra Intanto c'è la canzone che a me piace tanto Tun 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 Ok basta bear Allora torniamo su Signor capitano Signor capitano Go get some sleep I'll take your ass to general Sì ma dobbiamo spegnere il fuoco Perché non mi fa spegnere fuoco Con il mio pollo Nella spegnizione di fuoco No Ma vabbè Meno male che siamo in adventure Altrimenti adesso saremmo già calati a picco Uh capo Ciao capo Sei tu il nostro capo Ciao quanto sei bello Uh mi dai della carne capo Mmm Vorrei un po' di questa roba strana Ah intanto mi dai una stone sword Se ti do queste cose Ma a me non interessa signor capo Ah Ti ho cambiato i comandi Scappa scappa Prima che si Ne accorga Allora Dopo questa cosa Incrementibilmente stupida Qui non c'è più niente Che diavolo sta succedendo Allora Uh 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 Ma che diavolo sta succedendo I suoni di Minecraft Bene Il Minecraft è impazzito O meglio i suoni Sono impazziti Allora Intanto ci riprendiamo Tutta questa roba Che è molto utile Suppongo Oh una carota Ciao carota Non avevo visto la carota Ah Chiudiamo questo Prendiamo questo Tanto Nessuno ce lo vieta Suppongo Non so Non so Certo da nessuna parte Che non posso farlo E abbiamo preso tutto E torniamo a dormire Sleep Oh Oh Dovevo spegnere la luce Non posso dormire con la luce Cosa Ah ok Spetta Oh Chest Poi sono Spettito E potete Posse Nois Ah Bene Come ben sapete Patata velenosa Oh Siamo arrivati a casetta Cioè Vedo la riva da qui Oh Siamo arrivati L'acqua sta per entrare Ma va bene Siamo arrivati Sciurma Siamo arrivati A casa Possiamo andare Adesso Forse Se il capitano dice Va bene Noi andiamo Se il capitano dice Restate Noi restiamo Tutto per il nostro capitano Ma io non sono un pirata Vero Paffa Danna Oh Che bel posto Paffa al bacco La nave è riparata Tutto riparato Molto bene Signor capitano Ah Ecco di là Signor capitano Come i comandi I comandi Non li ha lasciati così Signor capitano Non puoi lasciare i comandi Ah ma siamo arrivati Ah giusto Siamo arrivati Vero Eh che cos'è quello Allora Ciao capitano Capitano Ciao capitano Sempre la stessa roba Vero capitano Allora Uh Che cos'è questa roba Mm Uh Uno zombie incastrato Ciao zombie incastrato Welcome to Granor Infatti Non so perché Stava succedendo qualcosa di strano Say thank you to steal It's rest here While my friends Go meet Toon of Wolves Chi è questo tizio Non lo vedo Haven't you heard The town is overrun With monsters Oh my god The town Says what Is behind this Chi è Chi ha fatto queste cose Cattivissime Non lo so Ma Per piacere Stranieri Salva la mia famiglia Va bene Non c'è bisogno Di urlarlo così Mamma mia Ma intanto Non capisco Perché c'è tutto Uh Tante Robacce Non capisco Perché c'è questo strano Suoni strani Cose strane Non lo so Allora Qui c'è solo una Ah una fornace Oh non c'è niente Per far bacco Intanto ho trovato Questo iron chestplate Che è molto più Utile Della mia Leather tunic Come avete potuto vedere Siamo arrivati In città E da come Possiamo leggere qui Adesso che siamo Arrivati in città Dobbiamo visitare Il municipio E parlare Con il sindaco Allora C'è quello strano Mostro lì Che prenderà Una bella freccia In testa Giusto in testa Esatto Ma quanto sei Bravo Che prendi le frecce In testa Adesso prenderai Anche la spada No Non so Perché c'è questa strana cosa Risolverò Nel prossimo episodio Perché adesso Non ne ho il tempo Purtroppo Allora Mi scuso Anche se ieri Non ho potuto Caricare i video Ma non ne ho avuto il tempo Mi scuso Ancora Mi scuso Bene Cioè Cosa volevo dire Ah si giusto Non è che non ho il tempo Oh ma c'è sto Non è che non ho il tempo Di fare le cose Più Cioè Detto in modo migliore Attenzione Detto in modo migliore Ho del tempo Per fare le cose Si Ho tempo Per fare le cose Ma l'ho sparso In malo modo Ovvero Ho Ho tempo Per esempio Ho i miei 10-20 minuti Senza Cioè Senza fare niente Però quei 10-20 minuti Sono divisi Nel senso Sono 10 minuti un po' prima 10 minuti un po' dopo Un'altra nave E quindi sono divisi E quindi Sembra che non abbia del tempo Però Un po' di tempo lo ho Ma non abbastanza Da riuscire a fare le cose Per esempio Non ho tempo per fare questo Non ho tempo per fare quell'altro Non ho tempo per fare anche quest'altro E quindi alla fine Non faccio nulla Ma vabbè Adesso questo non ci interessa E continuiamo Questo adesso mi da 3 Interessante E Espugneremo La città da questi orrendi mostri Oh Beneta Cosa ci fai qui È Beneta lei È il marito di Beneta Quanto sei brutto Marito di Beneta Allora Oh Che pozione è mai questa Beer Ah è birra Mi da 2 di forza E 7 di nasia Beauty lies in the hand In the beer holder Vabbè Bene Molto interessante E qui mi da del pesce Crudo Grazie signor merito di Beneta Ma non mi serve Allora Perché si stesse chiedendo Che cavolo è Beneta Vi consiglio di vedere I video della Hero Brain Mansion E ripeto Questa mappa Non c'entra niente con Oddio no Dalla Guardian Set Questa mappa Non c'entra niente Con la Hero Brain Mansion Sì è vero Spesso dico Hero Brain Mansion Ma non c'entra niente Con la Hero Brain Mansion Va bene Comprendo Oh Un arco Bello Ha anche Infinity Ha Infinity Forza 4 Indistruttibilità Perfetto Io droppo le cose E neanche lo so Ho anche 4 bottiglie Dell'Henching Ma non so cosa diavolo Possono servire Allora Lì dentro non posso entrare Quindi Devo dirigermi Verso quella direzione E con il mio Arco con Infinity Prenderò Quello scheletro giusto Nella sua cavità testale Testale cavità Oh Ciao Ted Sono un grande Io esco a Wesh at the air Questi piccoli Mostruccietti Ovviamente Se non arrivo io Ad ammazzare tutti Nessuno è in grado Mai di fare niente In qualsiasi gioco Se non esce l'eroe O anche in qualsiasi film Se non esce l'eroe Gli altri non sanno neanche Lavarsi i denti Ed esempio Nel film Di DENTAMAN E DENTAMAN Che deve lavare i denti A tutti Sì Non esiste Questo film Ma vabbè Allora Intanto lì c'è un tizio Io qui da dietro Lo colpirò In modo che lui Non possa vedermi Con la Non puoi rimbalzare Freccia Con la Astuta Grazie di Oh è già morto Stavo finendo di 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 Narrare Le mie geste eroiche Continuiamo le nostre geste eroiche Con quel tizio Qui Nascosto da dietro quest'albero Ammazzerò quei tizi Senza farmi notare Non ci arriva la freccia Porca Ah no Non ci è arrivata Però Non mi piace tanto quella posizione La trovo a dir poco inutile Dato che posso facilmente Attaccarli così Allora Intanto prendiamo pure un po' di roba Che ho droppato Già la tengo Ah aspettate Non ho letto Arcanist smite Cioè split Allora Pup Intanto questi cosi Non vogliono morire Sono molto resistenti Oh abbiamo droppato Di pantaloni Covers Caveman pants Pantaloni dell'uomo caverna L'uomo caverna Allora Morì Ovviamente L'uomo delle caverne Non l'uomo caverna Uh Che bello E ghiacciai Molto carino Trovo che sia molto carino Quindi questo E ghiaccio Intanto questi cosi muoiono In modo molto veloce E la cosa mi lusinga Lusinga Ma E' bello E' bello vedere crepare Questi piccoli amichetti In modo veloce Allora Altri pantaloni Vediamo Questi pantaloni Caveman pants Sempre gli stessi Vorrei delle scarpe Ah Don Ipereso Si escape La sfuga di Don Iper Don Pireseo Pire No Pire no No Don Pireso 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 Che strane cose Tu non puoi lanciarmi frecce Sono io che posso lanciarti frecce Non il contrario E che diamine Questi brutti Scrianzati Che vogliono lanciarmi frecce Quando non possono Questi scrianzati Io non capisco Dove imparano Dove imparano le Ragni Odio ragni Ragni No Watch out Oh my god Cioè Com'è Ha fatto ad azionarsi Quella cosa Grandissimo Ipixel Dato che non credo Di essere andato Su nessuna Presupplate Oh ragni 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 Odio ragni Per chi se lo stesse chiedendo Si Sono arachnofobico Allora Ehm Prendiamo tutta questa roba Prendiamo tutta questa roba Prendiamo tutta questa roba Mori Mori Ok Questi ragnetti del cavolo Che escono dalle pareti Non si fa Escono dalle fottute pareti Brutti cattivoni Allora Un globo di esperienza No non posso prendere Ehm Quanti ne sono Ragni 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 Yeee, che bello A chi non piace essere avvelenato Allora, tu non mi sei simpatico Quindi muori, perfetto Anche io ti voglio Io bene quando muori Uh, che cos'è questa roba? Allora, iPixel è un mostro Non è un grande È il miglior creatore di mappe che conosca Insieme anche a FVDisco Però credo che iPixel sia molto più bravo Anche se è meno conosciuto Ma è molto più bravo a perer mio Perché iPixel è un mostro Per chi non l'avesse capito È molto, 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 abile E non mi potete prendere a frecciate Sono io che prendo a frecciate voi Non il contrario Mannaggia la miseria Non so quando lo capiranno questi cosi Che sono io che prendo a frecciate loro E non il contrario Mamma mia Ci vuole tanto per farglielo capire Sono proprio ottusi 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 Porca miseria Allora Questo è troppato delle scarpe Vediamo se sono migliore delle mie Allora Dani pesto Queste che ho preso Sono sempre Dani pesto Però hanno una durata maggiore Quindi voglio quelle E tu nascosto là dietro pensi Di non essere visto Eh no invece ti vedo lo stesso Ecco Gli stupidi mob che cercano di nascondersi Allora Colpiamo anche quello Giusto in testa Oh L'ha preso in testa No non mi sembra di no Però è morto E la cosa È molto soddisfacente Allora Intanto cosa ci Oh Una città Una città Siamo arrivati Arrivati noi Essere E intanto il mostro Essere morto Perché io ho molto più forte Di un mostro Stupido Allora Ok già lo tengo Here I come here In the town hall Oh Il mayor Molto interessante Il mayor è Arriva signor sindaco Questa dovrebbe essere La seconda missione infatti Arriva signor sindaco Beh arrivati in questa città Per salvare il sindaco Ma riuscire a salvare il sindaco Scopritelo Nel prossimo episodio di World of the Fall Nel prossimo episodio di